Allora, siamo a Porto Reganadi, nella stanza del sindaco Roberto Mozziccafreddo, che naturalmente lo ringraziamo per questa sua disponibilità, rilasciarci una intervista, che non può che non partire purtroppo dall'attualità stringente. Poche ore fa una serie di scosse che sono state avvertite in tutta la regione, e quindi anche a Porto Reganadi, hanno riportato in auge purtroppo il terremoto. Non bastava il maltempo, non bastava i disagi che abbiamo incontrato in tutti questi mesi, proprio per via del terremoto, ora anche per via della neve. Porto Reganadi, per fortuna, è stata risparmiata, anche se ha fatto la sua parte, per quanto riguarda il terremoto, in fatto di accoglienza. E, ecco, sappiamo però che queste ultime scosse ha riportato anche all'attenzione il problema dell'agibilità delle strutture pubbliche. Sindaco, le scuole, avete fatto, diciamo, un'analisi, una verifica, riprenderanno normalmente nella giornata di domani, come sono messe? Allora, questa mattina, subito dopo la prima scossa, quindi erano circa le 10-20 cose del genere, e dopo circa un quarto d'ora avevamo tutti i nostri tecnici dentro le scuole. Poi se ne sono susseguite altre tre discosse, l'ultima erano le due e mezzo circa. Ah, perché voi non avete interrotto le lezioni per via della neve, quindi i ragazzi erano all'interno delle scuole, ci sono stati momenti anche di panico, no? Allora, da un primo sopralluogo è emerso che addirittura, siccome che la prima scossa è stata avvertita durante la ricreazione, i bambini dell'asilo e delle elementari nemmeno l'hanno sentita. L'hanno sentita invece quelli delle scuole medie. In realtà il panico è stato un po' dato più dai genitori che hanno cominciato ad andare a scuola e andare a prendere i bambini, i quali facevano la domanda, ma perché mi sei venuto a prendere? Per il terremoto. E lì hanno cominciato a spaventarsi anche i bambini. Quindi diciamo che tutto sommato c'è stato un momento abbastanza tranquillo. Poi ovviamente abbiamo parlato anche con la preside o quantomeno con l'istituzione scolastica e il discorso è che tu non puoi prendere dei bambini così piccoli, buttarli fuori e fare un'evacuazione che peraltro non dipende dal sindaco, cioè lì è l'istituto che decide di evacuare o meno. Il sindaco può solo fare un'ordinanza di chiusura della scuola. In ogni caso non si può mandare fuori i bambini così, ma fortunatamente anche dal sopralluogo che hanno fatto i nostri tecnici le scuole non hanno subito alcun danno, alcuna filatura che non fosse stata presente già precedentemente, per cui la scuola, come abbiamo già fatto l'altra volta, è da ritenersi completamente sicura, anche perché parliamo comunque di un piano terra. È ovvio che la paura è la paura, quindi anche quella può incidere un po' sul buon andamento. Quindi alla fine molti genitori sono andati a prendere i loro figli, la scuola tra influenze e i genitori che ci sono andati a prenderli, ovviamente i bambini sono diminuiti, gli è stato consigliato di tenerli comunque in alcune classi al piano terra con uscite di sicurezza, soprattutto per la paura, e ovviamente telefonare ai genitori che se intendevano andarli a prendere, fossero andati a prendere, altrimenti andavano a casa con il pulmino. Adesso alle due che cosa sia successo esattamente non lo so, perché fino all'una sono stati informati, ma quei ragazzi, addirittura la mensa, avrebbe funzionato regolarmente al piano terra, anche per non creare un panico del quale sicuramente nessuno ha bisogno. Questo è un po' il concetto. Quindi le scuole riprenderanno normalmente anche la giornata di domani, cioè giovedì, per chi ci ascolta. Guardi, se questo sciame sismico non si ripresenta fino a questa sera o sul tardi, penso che le scuole possano rimanere aperte. Se poi si ripresentassero altre scosse, magari solamente per tranquillizzare le persone, potremmo anche tenerle chiuse, ma è una decisione che prenderemo in serata, non immediatamente. Benissimo, Sindaco. Vogliamo parlare un attimo di questo anno che se ne è andato. Ci sono stati diversi fatti che hanno acceso un po' il dibattito in città. Uno di questi, naturalmente, riguarda la farmacia comunale. Un SRL che però vede nella sua composizione un consiglio di amministrazione formato da tre consiglieri. Il terzo non l'ha ancora eletto. Pensa di farlo? Già c'è un'idea chiara? Penso di eleggere il consiglio, come previsto dallo statuto. Si riunirà, perché il consiglio è effettivo, formato da due persone. Si riunirà e farà la cooptazione del terzo, ovviamente in seno ad una assemblea. L'assemblea consiglierà il nome, insomma, da poter essere eletto. Ma ci pensa lei? Certo, l'assemblea sono io, perché l'assemblea praticamente è formata al 100% dal comune, quindi l'unico rappresentante dell'assemblea è il sindaco. So dove vuole arrivare, quindi tanto vale che faccio una chiacchierata. Ecco, sì, polemiche, secondo me alcune sono polemiche che qualcuno chiama politiche, ma il mio intendimento di politica è stato ed è un altro. Io ho fatto dieci anni l'assessore, dal 1980 al 1990. Poi ho fatto cinque anni di opposizione. Di questi cinque anni il primo ero capogruppo dell'allora gruppo DC. In ogni consiglio mi presentavo, di fronte ai problemi che proponeva la maggioranza di deliberare, non in maniera preventivamente contraria, ma in maniera di fare delle proposte che noi ritenevamo alternative e che potevano essere migliorative rispetto alla proposta della maggioranza. Io le assicuro che è stata una cosa attiva, una cosa fattiva, e che secondo me ha portato anche a dei benefici al Paese. Perché se la maggioranza di allora, io ricordo come adesso, ci ha accettato alcune nostre considerazioni dell'opposizione, quindi fatta in maniera costruttiva e non un'opposizione solo per il gusto di fare l'opposizione, ovviamente ognuno nei suoi ruoli, l'opposizione è opposizione, la maggioranza è maggioranza, ma ho lavorato sempre cercando di lavorare in maniera costruttiva. E abbiamo ottenuto diverse cose dalla maggioranza. Poi è chiaro, nel momento in cui si va ad alzare la mano, la maggioranza è la maggioranza, sta nei fatti, nelle cose di tutti i giorni, altrimenti non ci sarebbe una maggioranza e una minoranza. Detto questo, nel caso specifico, ne abbiamo sentite un po' di tutte le solfe, tra cui erano da fuori qualcuno un'idea, perché non è stato fatto un bando di evidenza pubblica per il consiglio della farmacia. È una cosa che secondo me non esiste, non ha senso, la farmacia da sempre è una società partecipata del comune al 100%, dove il consiglio di amministrazione deve essere composto da persone di fiducia del sindaco e le quali abbiano anche un rispettabile curriculum, che quindi siano in grado di gestire un'azienda. Gestire un'azienda non significa che chi va a fare l'amministratore dell'azienda farmacia debba essere un farmacista o un medico, deve essere uno capace e che ha imparato nella sua vita a fare determinate cose. Le faccio un esempio, io nella mia professione da ingegnere ho avuto a che fare con anche ditte importanti, dove c'era un responsabile acquisti, che all'epoca con cui io lavoravo per costruire lo stabilimento, era responsabile acquisti di cemento, attrezzature, chiodi e così via. A metà di questo lavoro si è licenziato, perché lo ha chiamato a fare responsabile acquisti la varilla. voglio dire, è passato dai chiodi al grano, alla pasta. Per cui il concetto è, se tu sei in gamba, sei capace di gestire un centro acquisto, di gestire il personale, conoscendo l'azienda, in qualsiasi azienda lavori. Ed è questo che è stata la mia direttiva. Quindi persone di mia fiducia, ovviamente, e che poi avessero alla base un curriculum serio che mi permette di stare tranquillo nella gestione del personale, nella gestione degli acquisti, anche se poi in realtà c'è il direttore che loro più che altro devono fare le linee di indirizzo. Anche perché se quest'anno la farmacia ha circa un attivo da verificare, perché ancora il bilancio 2016 non è chiuso e quindi non sappiamo esattamente, ma circa 100.000 euro, si dice, perché non farlo diventare 200? Quindi mettere in piedi un qualche cosa per cui la farmacia possa guadagnare di più, perché non poter fare al limite, con il guadagno in più o anche con lo stesso guadagno dedicare più soldi al sociale, tra virgolette, quindi fare quelle cose che magari per persone indigenti che non riescono a sopportare il peso della stessa analisi, voglio dire, o di altre cose che la farmacia può fare e quindi organizzare un po' il tutto con una visione ampia, una visione che permetta di guadagnare di più e che permetta, essendo una farmacia comunale, di inserirsi ancora meglio su quello che riguarda il sociale. È una cifra che lei ha buttato lì, è quella del raddoppio di un possibile udile o è realistico portare da 100-200.000 euro? No, ho detto da 100-200.000, è una cifra che ho buttato lì, io me lo augurerei, ma già è sufficiente che anno per anno, a meno che ci siano investimenti importanti, perché è ovvio che per migliorare un assetto societario anche nei reparti vendita, eccetera, accorre fare degli investimenti. Ma se gli investimenti sono fatti bene, il primo anno quei soldi saranno stati investiti, ma poi, secondo me, rientrano se c'è un concetto commerciale e organizzativo sano. L'utile passa anche attraverso il risparmio. Risparmi, avete un'idea di come poterli attuare con la farmacia, eventualmente? Guardi, adesso dobbiamo fare ancora la prima riunione del Consiglio d'amministrazione con la quale approfondiremo un po' anche tutte le tematiche, perlomeno in questa prima fase. Il Consiglio di amministrazione, in particolare il Presidente, dovrà comunque riferire all'Assemblea dei Soci, cioè a me in primis, quali sono le prospettive, come intende agire, quali sono i canali migliorativi, ma che ne so, un esempio, perché non fare un pool d'acquisto? Il solito discorso, se una famiglia compiera tutti i giorni, spende una cifra. Se 100 famiglie si mettono d'accordo e compierano tutti i giorni nello stesso posto, può ottenere degli sconti, una scontistica, ma questo è uno dei mille esempi che si potrebbero fare. È da studiare, anche perché onestamente non conosco poi approfonditamente la problematica farmacia, però non è escluso che anche questo possa essere un esempio, un discorso, e quindi il risparmio va nell'acquistare meglio, per esempio. Questo potrebbe essere o nel vendere alcune cose che magari possono essere vendute diversamente. Adesso, butto là, magari con un canale particolare via internet. Oggi lo strumento informatico è talmente potente e penetrante anche all'interno delle famiglie che penso che potrebbe, adesso tutto da verificare, essere anche questa una valvola di sfogo. Senta, Sindaco, era possibile inserire un elemento dell'opposizione del CDA della farmacia come è stato chiesto proprio dalle minoranze? Teoricamente sì, anzi. Perché non l'avete fatto? Anzi, devo dire che era diventata una specie di usanza, ecco, però le usanze non sono normative e quindi io ho preferito utilizzare persone direttamente di mia fiducia, anche se il precedente consiglio di amministrazione secondo il mio parere ha lavorato in maniera egregia tutti e tre i componenti io li devo ringraziare perché comunque hanno portato la farmacia ad un buon livello, insomma, negli anni si è visto un aumento della produttività della farmacia. Ecco, Sindaco, questo per quanto riguarda la farmacia è scoppiata da pochissime ore la questione Sighetti che esponente avvocato in quota PD che era rappresentante del Comune di Porto Legati in seno alla STEA SPA. Ecco, voi avete ritenuto di dover anzi lei ha ritenuto di dover revocare l'incarico a questo componente e con una motivazione che leggiamo alla sua ordinanza è legata alla mancata informazione di quello che all'interno dell'Assemblea dell'Astea si stava decidendo a proposito della vendita di Astea Energia. Questa è una motivazione reale oppure perché avete voluto naturalmente destinare anche quel posto a un vostro rappresentante di fiducia? Allora, guardi, questa dell'Astea è una problematica rispetto alla quale io mi sento molto sereno per diversi motivi. Il primo motivo tanto per farvelo sapere è che l'ultima Assemblea io ho chiesto con una PEC che ho qui quindi carta certificata di rimandare il Consiglio di rimandare l'Assemblea perché ritenevo ancorché Astea Energia sia una partecipata di secondo livello che il Consiglio Comunale dovesse esserne informato. L'Astea Energia non è del Sindaco la Stea Energia è del Comune di Porto Recanati la partecipazione ovviamente non tutta per la nostra quota. Quindi per quello che mi riguarda io intendevo passare in Consiglio Comunale. Non è stata accolta la mia richiesta hanno fatto l'Assemblea alla quale io per le motivazioni che ho detto non sono andato. E da qui è una prima presa di posizione nei confronti di Astea. per quello che riguarda peraltro di questo io ho informato ufficialmente i capigruppo ho fatto una riunione dei capigruppo e ho informato di quello che era successo fino a quel momento quindi quando qualcuno poi in Consiglio disse abbiamo avuto queste informazioni per via traverse in realtà ho subito tenuto a precisare che se la riunione dei capigruppo è una via traversa non so in quale maniera devo farvi sapere le cose per cui questa è una presa di posizione per quello che riguarda il Consiglio di Amministrazione di Astea Energia in realtà la vendita delle quote secondo il mio parere gli è passata abbastanza sopra perché non è il Consiglio di Amministrazione di Astea Energia che dice vendo ma è l'Assemblea dei soci delle partecipate che dice vendo nella fattispecie è stato venduto il 70% delle quote il discorso Sichetti io nei confronti dell'avvocato Sichetti non ho nulla da dire a livello personale tutt'altro tanto è vero che nei nostri regolamenti le persone nominate dal sindaco quindi in questo caso Sichetti con la precedente con pagina amministrativa decadono automaticamente quando c'è il cambio del sindaco quindi io teoricamente a luglio potevo avrei potuto dire a Sichetti ok se è decaduto nomino un'altra persona ma proprio per voglio dire non avevo nessun problema che Sichetti stesse lì e siamo arrivati anzi ho avuto con lui un uno scambio di corrispondenza perché io il giorno 11 luglio ho scritto all'avvocato Sichetti chiedendo informazioni sull'andamento di Astea eccetera eccetera con tanto di protocollo lui mi risponde alcuni giorni dopo il 19 luglio facendomi una relazione su quello che è successo nel 2004 fino a giugno del 2016 me lo ha portato brevi mano ce l'ho qui eccolo qua non è stato nemmeno protocollato però ce l'ho per cui non avevo nessuna motivazione per dire Sichetti voglio dire ok stai facendo il tuo lavoro vai avanti tienimi informato su quello che succede sono venuto a sapere che in realtà il l'amministratore delegato di Astea Energia ha parlato all'interno di un consiglio di amministrazione di questa vendita che si stava effettuando e addirittura ho saputo che non era d'accordo non tanto sulla vendita quanto sul prezzo insomma poi ognuno ha le sue idee quindi se ne è stato parlato all'interno di un consiglio di amministratore tu che sei la mano il braccio del comune di Porto Recanati occorre che vieni a parlare con me scrivi un articolo sul giornale fai un qualche cosa per dire oh sta succedendo sta cosa che fa il comune di Porto Recanati per esempio io in realtà dal 19 di luglio non ho avuto più contatti con con l'avvocato Sichetti per cui a seguito di tutte queste vicende e di questo fatto come ho scritto nel nel revoca del decreto con cui era stato nominato ho revocato la nomina come consigliere come rappresentante del comune di Porto Recanati all'interno del consiglio dell'astea a me sembra di essere stato molto corretto perché questo è successo dopo sette mesi dall'insediamento dopo aver parlato il mese successivo con l'avvocato punto dopo se questa sembra una scorrettezza voglio dire ognuno mi dimostri che è una scorrettezza insomma benissimo quindi anche con l'astea naturalmente il comune di Porto Recanati della vendita dell'astea energia si è fatta si è fatta un'opinione naturalmente non mi sembra che voi siate tanto convinti di questa operazione da quello che ho capito della montata di questa operazione noi più che altro non siamo convinti io non sono convinto noi della metodologia con cui è avvenuta è avvenuto questo approccio della metodologia con cui è stato stimato il valore e anche perché mi è mancato non me l'hanno fatto fare il supporto del Consiglio Comunale non sono non ho avuto la possibilità una volta studiate le carte di andare in Consiglio Comunale per avere dal Consiglio Comunale di Porto Recanati un aiuto un'autorizzazione una spinta il Consiglio potrebbe probabilmente avrebbe potuto anche dire no non la vendiamo io da solo cioè come sindaco non me la sono sentita di decidere una vendita di un qualche cosa che ritengo patrimonio della città ma non sicuramente del sindaco Moziccafreddo ecco come sindaco non ha preso posizione avrebbe preferito che fosse stato il Consiglio Comunale di esprimersi quindi ha preso atto di quello che è avvenuto ho preso atto e dopodiché da qui in poi ovviamente ognuno farà i suoi passi non so c'è qualcuno che sta spingendo per sul discorso che perché sono stati fatti solamente gli inviti a tre società private che sono che erano già all'interno di Astea di queste tre una sola ha risposto questa è una cosa da chiarire perché non è stata fatta un'evidenza pubblica anche se c'è in questo caso sì in questo caso sì un'evidenza pubblica non nel caso della nomina del Consiglio della farmacia insomma ma qui parliamo di cose importanti parliamo di quattrini importanti non parliamo di 200 euro qui parliamo di 20 29 milioni di euro circa ecco per cui abbiamo questi dubbi che poi esprimeremo anche in fase di successiva assemblea perché ci dovranno essere altre assemblee sulle quali poi prenderemo le nostre dovute posizioni ecco sindaco sei mesi sono passati del suo insediamento presso a poco argomenti che legge problemi ereditato soprattutto dalle vecchie amministrazioni fra cui ad esempio la vicenda della costa che poi è un problema annoso che ci portiamo avanti da chissà da quanti decenni ma alcune assicurazioni su questo fronte ci sono per la difesa della costa come vi state muovendo allora anche sulla difesa della costa qualcuno non ha lesinato il momento di fare polemica ti posso dare del tu sì l'hai pubblicato pure tu quindi ecco lascia il tempo che trova perché quando abbiamo fatto la conferenza stampa qui sotto non so se c'era anche Tubaldi ma non mi sembra quella volta conferenza stampa dove c'era il comune di Portoleganati il provveditorato alle opere pubbliche le ferrovie e l'assessore Sciapichetti per la regione io ebbe a dire mi trovo a fare il sindaco e in questo caso a raccogliere un qualche cosa che è iniziato nel 2008 quindi sicuramente non posso dire che il merito di questo risultato è il mio lo raccolgo volentieri perché è un qualche cosa che comunque serve al comune di Portoleganati alla città di Portoleganati siamo arrivati alla fine eravamo arrivati alla fine quasi di un percorso e ho ringraziato principalmente la regione nella persona dell'assessore Sciapichetti che comunque ci è stato sempre vicino e ci ha dato una grossa mano dopodiché un bel giorno mi viene a intervistare Rai 3 dove mi ha fatto parlare 25 secondi perché già ecco 25 secondi è chiaro che in 25 secondi tutta la storia non si può raccontare cerchi di stringere e mi hanno tacciato di far credere alla gente che il merito di questa protezione della costa fosse esclusivamente il mio io spero che chi abbia letto queste cose si ricordi di quello che è successo prima e quindi proprio lo lasci passare così come l'ho lasciato passare io tanto è vero che non ho risposto da nessuna parte adesso mi fai la domanda io con l'occasione mi inserisco e ti dico quello che penso comunque sempre appunto grazie a questo coordinamento della regione del Proditorato alle opere pubbliche della della delle ferrovie dove ognuno ha contribuito con la sua quota sono riusciti finalmente a emettere il bando per i lavori bando con la presentazione delle offerte e quello che so queste offerte verranno aperte queste buste il 9 di febbraio cioè scade il termine ultimo per presentare le offerte questo 9 di febbraio poi una volta aperte le offerte verranno assegnati i lavori stiamo parlando dei lavori della parte sud quindi le scogliere che vanno dal fiume Potenza territorio di Porto dei Canati fino al fino al Fosso Pilocco di Porto Potenza è un qualche cosa che chiaramente ci dà tanta soddisfazione perché vede risolto un problema annoso ma non è che dà soddisfazione a me io penso che dia soddisfazione a tutta la cittadinanza di Porto dei Canati a tutti quelli che ci hanno lavorato dietro che finalmente dopo 8-10 anni si è si è riusciti insomma ad ottenere questo ripeto non l'ha ottenuto il sindaco Mozzicafretto perché altrimenti qui riscriviamo qualcuno riscrive l'ha ottenuto un pool di persone e tra cui ovviamente forse uno di quelli che premeva di più e che aveva la possibilità di premere di più era proprio l'assessore Sciapichetti che comunque ringrazio un'altra volta pubblicamente anche perché peraltro in questo periodo avendo lui tra le altre cose anche la protezione civile e così via è sempre in giro per il terremoto insomma è impegnatissimo è impegnatissimo e quindi questo arriveranno ora per quello che riguarda in realtà ancora la costa noi abbiamo avuto dalla regione Marche uno stanziamento di circa 90.000 euro questo stanziamento di circa 90.000 euro abbiamo presentato un progetto per scossicci che riguarda l'ampliamento dei pennelli attualmente esistenti e l'eventuale aumento dei pennelli quelli sono i soldi e quelli bisognava impegnare in realtà abbiamo presentato il progetto i pareri erano tutti favorevoli c'è stato solo il parere regionale che ci ha imposto non di eseguire i pennelli con gli scogli come avremmo voluti fare noi ma con dei sacchi ripieni di sabbia sacchi particolarmente resistenti quindi non sono i sacchi che si vedono in giro per cui abbiamo dovuto cambiare il progetto il progetto è stato approvato così e adesso quando sarà il momento quindi quando c'è l'avvenuta erogazione tra virgolette decreto di questi 90.000 euro faremo la gara d'appalto per vedere chi poi si avremo a disposizione pennelli più sacchi pennelli fatti con i sacchi esatto pennelli fatti con i sacchi dopodiché e avremo a disposizione così ci è stato promesso il 50% del ribasso d'asta che verrà fatto per l'asta che stanno facendo a sud e lì vedremo quanti soldi di quanti soldi potremo disporre e per cui poi in base a quei soldi vedremo quali opere continuare a fare ovviamente per la parte nord di Scossicci perché la parte a sud sarà completamente sistemata per la parte centro l'anno scorso avevamo già iniziato e fatto alcune opere di revisione delle scogliere esistenti non sono ancora finite ma adesso pensiamo di riuscire a ottenere vediamo qualche particolare introito per poter finire anche questa parte che è rimasta scoperta in alcune zone benissimo sindaco che cosa intende fare l'amministrazione comunale cambiamo altro argomento per la questione del burchio viene congelata o va avanti e in che modo intendete di procedere allora questione del burchio riguarda un po' complessivamente il discorso dell'urbanistica ma se vogliamo solo parlare di questo tipo di discorso io in campagna elettorale ebbi a dire quella questione si è chiusa con il con la sentenza del consiglio di stato se così vogliamo dire ma ho detto anche se viene da me un imprenditore che mi propone di investire a Porto Recanati 50 60 70 milioni di euro e mi propone delle cose che dal punto di vista turistico riteniamo valide da portare avanti io non lo mando via ovviamente il tutto va visto in funzione dello sviluppo urbanistico di Porto Recanati del futuro sviluppo turistico che possiamo avere in testa o che comunque mano a mano sta venendo fuori e di quello che poi può portare come lavoro cioè oggi io tutti i martedì qui ho la fila di persone che non lavorano e non ce l'ho solo io ce l'hanno anche gli altri sindaci ce l'ha tutta Italia ma bisogna che faccia l'egoista cioè se io riesco a far lavorare persone di Porto Recanati se permettete cerco di risollevare il mio paese da una crisi che comunque è lunga e ancora ancorché qualcuno dice stiamo uscendone non mi sembra di vedere sorgere il sole soprattutto dal punto di vista proprio della della parte edilizia dove abbiamo tantissime imprese ferme tanta gente che magari stava qui da decenni e lavorava serenamente e ritornata a casa sua perché qui non riusciva più nemmeno a portare a casa pane e mortatella per i figli per cui molta gente è rimasta qui occorre il lavoro a Porto Recanati quindi se qualcuno vuole riproporre di nuovo magari un villaggio un resort in zona Montarice prendi in serie considerazione anche per una questione sia di sviluppo turistico che di occasione di occupazione in loco sia che abbia idea di presentarlo in zona Montarice o piuttosto in zona Scossicci o in un'altra zona di Porto Recanati se lo riterremo opportuno e ci sono e ci fossero solide basi per essere convinti di ciò sicuramente lo prenderemo in considerazione Benissimo Sindaco si era parlato anche di questa di questo progetto del fatto di poter portare avanti il progetto della cosiddetta del cosiddetto vicinato nel senso che attraverso Whatsapp i cittadini comunicano affinché si possa trasmettere delle notizie utili per poter sventare o prevenire dei crimini questo a che punto siete voi allora abbiamo già il progetto il controllo del vicinato abbiamo già abbozzato il progetto direi che avanzata fase ne ho già parlato con la prefettura perché occorrerà fare dei passi anche nei confronti dell'istituzione prefettura e o questura ai quali comunicare perché non è così semplice non è che ogni cittadino vede sente qualche cosa e chiama i carabinieri chiama la polizia perché sarebbero invasi da chiamate ecco invece occorrerà considerare e mettere in piedi o perlomeno dare creare dei responsabili che siano essi responsabili di quartiere per esempio uno per ogni quartiere che si prende l'impegno e che i cittadini di quel quartiere chiaramente informano questo responsabile questo responsabile deve essere nominato anche assieme alla prefettura e poi è questo responsabile che dovrà bagliare un po' tutte le domande quindi non sarà un lavoro semplice da parte del responsabile perché se gli arrivano 200 whatsapp al giorno comincia a essere un impegno ciò non toglie che noi crediamo in questo tipo di controllo di vicinato perché in realtà può sventare tante cose e sarebbero poi i responsabili che fanno poi capo al locale comando dei carabinieri o diversamente come poi ci suggerirà e ci dirà di fare la prefettura benissimo mi sembra di aver colto almeno di aver trattato i principali argomenti sappiamo anche del fatto che ci sono stati dei problemi nel periodo dell'accoglienza degli sfollati recanati con i rapporti con un'altra associazione porto recanati solidale così via comunque mi sembra che su questo sia stato detto tutto e di più guardi io quello che ho detto sempre io e sfido chiunque a dire il contrario perché l'ho detto sempre in pubblico l'opera che ha fatto Porto Recanati solidale nei primi giorni quando io chiamo di violenta emergenza è stata impagabile e inarrivabile la popolazione cioè Porto Recanati i Porto Recanatesi si sono dimostrati sicuramente all'altezza dell'aiuto più spontaneo che possa esserci è ovvio che a un certo punto occorre arrivare a quella che chiamiamo noi abbiamo sempre chiamato una normalità e cioè noi il Comune agisce tramite la protezione civile e la protezione civile ad un certo punto giustamente ha messo dei paletti dice signori occorre fare in questa maniera su questo ci siamo trovati d'accordo un po' meno ma questo non è che ha comportato una questione o prese di posizioni particolari noi dobbiamo agire in una certa maniera noi dobbiamo avere un inventario noi abbiamo consegnato le scarpe addirittura con le schede a chi le abbiamo date e così via loro hanno agito molto di più una volta dicevo di pancia poi qualcuno mi ha corretto dice no con il cuore è vero con il cuore io di questo ne sono convinto e quindi continuano anche loro a fare determinate cose ma purtroppo noi dobbiamo seguire binari che sono più istituzionali siamo più stretti rispetto a un volontariato puro e fatto solo col cuore che ha funzionato e funzionano benissimo sono persone alle quali non si può dire assolutamente niente per carità magari tutti i paesi avessero delle persone così che poi riescono a fare quello che hanno fatto loro noi abbiamo dovuto fare come istituzione in maniera diversa perché ci è stato imposto e non possiamo fare come ci pare è comunque un'istituzione deve seguire determinate regole determinati canali per cui tutte queste chiacchiere secondo me stanno a zero la protezione civile funziona funziona egregiamente abbiamo il COC sempre aperto ancora sia per il discorso terremoto sia per questi eventi atmosferici che ci corrono dietro e io spero che si diano una calmata con questo aumento del terremoto con queste nuove scosse abbiamo avuto dei messaggi della protezione civile dicendo che coloro che avessero paura rimanere in casa anche se già ritornati o che avessero la casa ancorché agibile ma hanno paura possono essere ospitati nelle strutture ricettive e addirittura la regione ha chiamato oggi le nostre strutture ricettive chiedendo quanti posti hanno a disposizione quindi quanti se ne sono andati 50 ok ce l'hai a disposizione e quindi hanno dato la loro disponibilità per la regione e probabilmente molte persone ritorneranno adesso stiamo aspettando l'evolversi delle cose perché oggi anche in televisione hanno fatto vedere i collegamenti su dove oltre il terremoto c'è un metro di neve cioè sono in condizioni veramente disastrose insomma non per colpa loro perché l'evento purtroppo atmosferico il terremoto è quello e quindi tende piene di neve sotto le quali penso che non sia semplice vivere a qualsiasi età ecco ecco veramente siamo a conclusione mi era sfuggita di farle una domanda politica ma c'è questo avvicinamento con il PD un'eventuale intesa perché c'è sempre questa spinta si è detto che in campagna elettorale c'è stato questo tentativo di trovare un accordo fra Udc e PD poi è saltato e si è formata questa diciamo così questa lista insieme per la gente che è una lista di centro-destra ma questo avvicinamento del PD ogni tanto ritorna questo ritornello come se ci fosse questa spinta anche degli organi provinciali e regionali per trovare un'intesa con il PD c'è o no? ma guardi io guarderei obiettivamente i fatti quindi lei molto semplicemente pubblica quello che deve pubblicare veda gli interventi senza fare tante domande e si rende conto di quello che attualmente sta succedendo insomma benissimo domanda di brammatica a conclusione prospettive future come intendete muovervi perché l'anno 2017 è iniziato un'idea naturalmente di quello che farete di importante di prioritario ce l'avrete sicuramente non peraltro l'avrete messo anche o lo metterete presto nel piano programma del vostro bilancio allora stiamo proprio lavorando sul bilancio perché entro il 28 febbraio deve essere approvato e ovviamente veniamo da una stagione estiva da sei mesi dove abbiamo già trovato un bilancio per nulla flessibile ma questo anche perché la flessibilità nei bilanci comunali non esiste più dove erano state operate delle scelte ovviamente noi faremo delle scelte che molto probabilmente saranno diverse da quelle precedenti perché magari è nostra cura seguire più un certo settore che altro quello che ci preoccupa maggiormente proprio come bilancio in questa fase in questi giorni ne stiamo parlando sono i cosiddetti servizi esterni quindi parliamo del verde parliamo dell'immondizia parliamo della riparazione delle buche nelle strade e così via ci preoccupa parecchio perché il personale è sempre in diminuzione non possiamo assumere il bilancio è quello che è per cui dovremmo trovare sicuramente delle soluzioni che probabilmente saranno delle soluzioni alternative ci stiamo studiando sopra però ecco lo scopo è quello di trovare delle soluzioni che ci possano compendiare il bilancio con le esigenze poi reali del paese l'anno scorso utilizzando i nostri operai siamo riusciti a falciare l'erba a scossicci era ad agosto purtroppo se tu hai tre persone e cominci a un certo punto devi fare un'organizzazione oggi lì domani là dopo domani là e lì siamo arrivati ad agosto la cosa abbastanza positiva è stata che su questo abbiamo fatto questa organizzazione quindi quando le persone chiamavano venivano dicono la guardia nella zona sua succederà il 30 di luglio meglio di così non si è potuto fare quest'anno speriamo di arrivare prima dell'estate ad aver sistemato un po' il discorso del verde il discorso di tutto quello che è la segnaletica e così via stiamo lavorando sull'applicazione del del piano dei parcheggi quindi stiamo portandolo avanti stiamo lavorando su alcune varianti che ci sembrano fondamentali tipo la variante al piano del litorale perché secondo noi presenta diverse criticità anche nell'uso di questo piano abbiamo variato già diversi regolamenti e ne varieremo altri dovremmo parare anche il regolamento per le emissioni sonore che quest'estate ci ha fatto tribolare parecchio anche se rispetto ad altri anni abbiamo messo in piedi un sistema di rilevamento acustico e quindi abbiamo insomma purtroppo per chi l'ha preso abbiamo dovuto fare anche delle multe per non rispettare quello che era comunque la normativa e insomma di problemi in pentola ce ne sono tantissimi occorrerà fare delle scelte perché alcuni potranno essere risolti e alcuni purtroppo dovranno aspettare il loro tempo siamo impegnati al massimo su questo tipo su questo tipo di discorso siamo qua vecchi problemi in piedi ce ne sono e rimarranno in piedi fino a che qualcuno non ci dia una mano in determinate determinate situazioni stiamo andando verso i problemi giornalieri sono sempre uno dietro l'altro perché non c'è giorno che non esista una problematica da risolvere purtroppo la situazione è questa dobbiamo tirare avanti sempre perché porto le canati secondo me sono merita benissimo signor la ringrazio è stata un'intervista su cui e con la quale abbiamo cercato un po' di dare una risposta almeno a una serie di argomenti forse fra quelli più sentiti se ne abbiamo tralasciati qualcuno avremo l'occasione di ritornare magari a risentirci perché naturalmente è semplicemente questo un approccio che voleva essere un riassunto ma anche una sintesi di quello che è stato fatto dei problemi che avete vissuto di come lo avete affrontato superati o non superati magari secondo altri naturalmente le opinioni qui possono divergere però vedremo appunto anche con il bilancio se ci sono dei problemi sui quali potremo anzi sicuramente ritornare per poterci avere l'occasione anche di rincontrarci ci sentiamo e buon lavoro grazie grazie volentieri buon lavoro anche a lei grazie grazie grazie